comunque ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono betta97 voi siete sul video dei go kart abbiamo deciso di fare una sorpresa ai nostri zii papà e parenti tutti per fare un bel giretto sui go kart adesso divertiamoci e basta non so cosa venga fuori di sicuro verrà fuori un sacco di casino ho un'altra cam quindi ci sarà anche la da divertirsi con l'altra cam perché ho mio zio che di sicuro ne sparerà delle belle non si sentirà la sua voce però comunque probabilmente qualcosina la sentirete adesso divertiamoci e basta cominciamo a imparare il tracciato un po' Grazie a tutti. 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 Il Tato 1 è andato. Adesso vediamo se riusciamo a fare tutto bene. Grazie a tutti. Qua ne ho di più di lui. Ne avevo di più. Ne avevo di più. su questa. Su questa. Su questa. Su questa. Qua è tutto. è sempre tutto. e... Grazie a tutti. 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 Questa è buona. 1,20 fatti. Dai che non c'è male. Ah, ha perso tantissimo, ha perso. Buona. Devo ricordarmi l'entrata, devo ricordarmi l'entrata che devo fare. Buona di freni, buona di freni, bene, buono così, freno un colpo, ok, perfetto, perfetto per quello che posso fare, però questo è un buon tempo. Questo è un buon tempo. Buon tempo. Ah